Le imprese hanno difficoltà a trovare figure professionali, lo testimoniano i dati elaborati da Veneto Lavoro. Su 100 richieste, 50 non vengono soddisfatte, 25 per ragioni demografiche, altrettanto a causa di una formazione non adeguata. Formare competenze e talenti è fondamentale per dare futuro al territorio bellunese, la cui economia è al fiere del made in Italy e non solo nel settore dell'occhialeria. Insieme alla tecnologia, le competenze fanno la differenza. Nell'economia della conoscenza non potrebbe essere altrimenti. Le nostre produzioni a nord-est sono delle eccellenze, ma per restare tali hanno bisogno di investimenti continui, di formazione e di cultura, e di giovani. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti lo dice senza giri di parole al convegno organizzato da Lewis Business School, che ha approfondito la tematica delle competenze professionali per lo sviluppo economico e sostenibile del nord-est Italia. Per Berton serve un patto formativo fra azienda, scuola e istituzioni affinché ognuno possa essere valorizzato nelle proprie competenze. Nelle nostre fabbriche c'è spazio per tutti, veramente per tutti. A Belluno la sfida delle competenze rientra poi nel campo più largo della lotta allo spopolamento delle terre alte. Trattenere in loco i talenti significa creare condizioni di sostenibilità nel lungo termine. Problemi condivisi anche dal settore pubblico di programmazione e progettazione, emblematica l'esperienza della gestione della casa di riposo di Belluno. In questi anni abbiamo lavorato moltissimo nella casa di riposo di Belluno, che è un po' quella che fa da coordinamento per tutte le case di riposo del territorio, che lavora con quella di Treviso. Abbiamo un collegamento con l'Università di Innsbruck, lavoriamo su dei progetti assolutamente innovativi. Lavoriamo a tutti questi progetti, arriviamo a livelli di eccellenza e poi chiudiamo 34 posti letto perché non abbiamo trovato un infermiere. Un esempio che offre la lettura di una realtà che deve riadattarsi in un momento in cui la formazione è diventata il perno attraverso cui diventare soggetti capaci di soddisfare la richiesta di cambiamento del sistema socio-economico.